Contagi sotto controllo anche oggi, con 129 nuovi positivi e 15 morti. Ma l'allerta deve rimanere comunque alta. Mascherine e distanziamento continuano ad essere l'unica arma contro il virus. Lo sa bene il sindaco di Capri, che ha firmato oggi un'ordinanza che obbliga l'uso del dispositivo all'aperto nei weekend. Ci stanno pensando anche il governatore della Campania e quello del Lazio, che per il momento però fa appello al rigore dei sindaci. E mentre si moltiplicano gli annunci alla prudenza, intanto aumentano anche i focolai. Da Catania, dove 21 positivi hanno fatto scattare l'indagine epidemiologica, a Rovereto, in provincia di Trento, dove tre dipendenti dell'azienda Bartolini sono risultati positivi e si aspetta ora l'esito di 200 tamponi. Poi c'è Savona, con 50 contagiati e 1000 persone in quarantena per un focolaio esploso in un ristorante giapponese. E Modena, dove sono in isolamento 40 persone entrate in contatto con i tre ragazzi, i risultati positivi alla fine di un viaggio sul litorale adriatico. Poche ore fa, poi, in Basilicata, sono risultati positivi anche 25 migranti e in Campania, nel Casertano, un abbadante avrebbe contagiato sei membri di una famiglia. Il virus non è affatto sconfitto e colpisce ancora anche i più giovani. Secondo l'indagine pubblicata oggi dall'Istituto Superiore di Sanità, l'età media del paziente si è abbassata addirittura a 43 anni.